Sono da pochi usciti i dati del primo trimestre diffusi dall'ISAT sull'andamento economico dell'Abruzzo. Per snocciolarli, per analizzarli, per comprendere come sta andando l'economia nella nostra regione siamo con l'economista e il professor Pino Mauro per vedere quali sono i dati che emergono proprio in maniera così più lampante. Sì, io direi che c'è un dato complessivo che dà un segno negativo del meno 0,7% e all'interno di questo dato si collocano alcuni settori fondamentali quali possono essere la chimica e la farmaceutica però nel complesso si confermono quelle che sono le caratteristiche della nostra regione e cioè noi abbiamo un comparto dei mezzi di trasporto molto forte e si conferma ancora una volta perché ormai assorbe il 52% del totale dell'export abbiamo poi a livello endogeno un risultato che io ritengo molto interessante che riguarda il settore dell'agroalimentare che cresce di anno in anno e addirittura supera quelli che sono i periodi precrisi e poi in generale sotto il profilo territoriale la provincia di Chieti che si conferma essere la prima provincia d'Abruzzo. Il calo è in gran parte dovuto a un segmento particolare della provincia di Pescara. Nelle scorse settimane però esponenti di alcune associazioni hanno delineato un quadro decisamente catastrofico. Come può avvenire questo? No, io penso che il quadro se noi ci fermiamo al segno meno senza interpretare adeguatamente quelle che sono le tendenze può darsi che vi siano delle visioni pessimistiche, però il punto è questo, che non è l'Abruzzo che non cresce, l'Abruzzo ha delle difficoltà legate alle cose dette prima, ma non dimentichiamo che noi abbiamo un quadro nazionale dove l'Italia per il 2019 è tra lo 0,2 e lo 0,3 di crescita. L'Abruzzo non è per caso un'isola felice, risente molto di queste cose. Quindi io non darei interpretazioni pessimistiche, direi semplicemente che è arrivato il momento di incrementare, mettere liquidità nel sistema economico per aiutare le imprese, in particolare il settore delle piccole imprese che è stato fortemente colpito dalla crisi perché, come tutti sanno, la domanda aggregata, cioè la domanda di consumi, è molto piatta.